Allora, prima di passare a parlare di un altro dei mostri sacri del Rinascimento italiano, ossia Piero della Francesca, ci resta da affrontare uno, due, dieci, venti piccoli artisti. Noi ne vedremo solo tre piccoli per modo di dire perché sono artisti molto interessanti e che ci danno un'idea di quella grande variabilità, di quella grande quantità di sfumature con la quale gli artisti appunto del Quattrocento interpretano le novità del Rinascimento. Perché? Perché abbiamo detto che rispetto ai primi tre autori della rivoluzione rinascimentale, Brunelleschi, Donatello e Masaccio, che operano delle scelte radicali, rompono completamente con la tradizione e con tutto ciò che gli sta intorno, perché ricordiamo che nel Quattrocento la committenza preferisce largamente, se non a Firenze e nel resto d'Italia e d'Europa, la via del tardo gotico, del gotico internazionale. Loro indicano una via di rottura, qualcosa di completamente diverso, abbiamo visto una via intransigente che indica una serie di strade, una serie di obiettivi, quindi la prospettiva, la razionalità matematica, la citazione a volte anche archeologica del mondo antico, la ricerca del realismo, il naturalismo, la ricerca della purezza, del nitore, diciamo in qualche modo di schemi replicabili, di equilibrio formale, e poi anche la grande resa del pathos, ma anche la monumentalità, lo scavo psicologico e quindi il naturalismo in questo senso dei personaggi rappresentati. C'è una serie di elementi molto chiari e affrontati da questi tre primi iniziatori del Rinascimento, abbiamo detto in maniera assoluta, intransigente, però poi intorno, oltre questi obiettivi e queste strade, esiste un panorama assolutamente variato e variabile, un contesto molto ampio nel quale i vari artisti interpretano in parte, diciamo così, queste novità e ne fanno tesoro e magari sviluppano parti di queste novità riuscendo a spesso a unire queste grandi novità a quella loro tradizione culturale, per esempio la tradizione delle città dalle quali provengono, oppure la tradizione culturale alla quale sono legati per, diciamo, per la formazione, quindi tutto il mondo tardogotico. Facciamo degli esempi rapidamente, noi abbiamo visto da una parte questa grande potenza, diciamo così, del Rinascimento Brunelleschiano che è fatto proprio di ideale, di purezza, di nitore, dall'altra parte abbiamo visto Leon Battista Alberti che fa delle citazioni spesso addirittura proprio archeologiche, quindi un rinascimento coltissimo che fa un riferimento assolutamente colto e puntuale e coerente ai monumenti del mondo classico. Però abbiamo visto anche Michelozzo che riesce a interpretare in qualche modo le novità Brunelleschiano ma anche a venire incontro alle esigenze della committenza e a recuperare tutta una serie di informazioni che stanno dentro la tradizione architettonica fiorentina. Abbiamo parlato per esempio dell'uso del bugnato rustico, di questa tendenza più decorativa rispetto per esempio agli strumenti, diciamo al frasario utilizzato da Brunelleschi. Abbiamo visto per esempio che Nanni di Banco prende da Donatello moltissimo, collaborano, lavorano insieme, hanno più o meno la stessa età, lavorano negli stessi cantieri, riprenderà per esempio la grande monumentalità, questa grande passione per il mondo antico, la forte volumetria, la presenza diciamo nello spazio delle sue figure, però non accetterà mai per esempio di prendere in esame il forte patetismo, diciamo così di Donatello, l'espressione del sentimento, cosa che in Nanni di Banco non troveremo mai, troveremo sempre una monumentalità fatta soprattutto appunto di grandi volumi, ma diciamo una scultura in qualche modo meno patetica, meno potente. Abbiamo visto la via ghibertiana che eccelle sicuramente nel recupero, diciamo così, di una correttezza anatomica e quindi fortemente classica e anche nella strutturazione prospettica dello spazio, però indulge, continua a indulgere in queste grandi lunghe falcature, nella ricerca di eleganza, di corrispondenza in qualche modo, che sembrano più parlare di danza che non di fatos, in questo caso abbiamo una flagellazione che sembra appunto un balletto, non c'è nessun senso del dolore, della sofferenza. Abbiamo visto per esempio anche la versione senese che viene data di questo rinascimento, Noiaco della Percia che si confronta, si misura con il rinascimento fiorentino, acquisisce da Donatello sicuramente questa potenza espressiva, questa volontà patetica e quindi questi volti grifagni, questa grande potenza anche muscolare e fisica delle figure, però non accetta, non utilizza per esempio quella coerenza prospettica che è tipica di Donatello, o per esempio degli strumenti diciamo proprio tecnici come quello dello stiacciato, ne fa a meno e si concentra su tendenze plastiche ricollegabili al 300 senese, per esempio a Giovanni Pisano. Andando avanti per esempio invece abbiamo Paolo Uccello che abbiamo detto invece recupera praticamente dal rinascimento soltanto la complessità della resa prospettica, quindi vedete da una parte qualcuno che applica qualche elemento del rinascimento ma non accetta la resa prospettica e qualcuno invece che si concentra sulla resa prospettica che poi continua anche qui a indulgere in atmosfere sospese, in mondi fiabeschi, irreali, in immagini bloccate con questi colori smaltati, con questi blu profondi, questi notturni e queste folle di figure assolutamente irrealistiche. Dall'altra parte abbiamo visto Beato Angelico che invece cerca un forte realismo e cerca soprattutto una forte narratività, una semplicità in qualche modo delle sue figure che deriva anche dalla sua formazione anche qui tardogotica e miniaturistica, questa facilità narrativa, ma avendo visto operare e quindi avendo studiato Masaccio c'è anche il recupero, anche in questo caso, di un forte realismo, di una forte sintesi, quindi vedete anche in questa particolare opera ma in generale in tutta l'opera di Beato Angelico una illuminazione piena, quindi una luce dolce, un'unione di elementi tardogotici, di minuzie, di dettagli, di particolari e poi una serie di elementi tratti invece dal mondo rinascimentale, per esempio queste scenografie, queste fughe prospettiche, questa grande semplicità, in qualche modo questo nitore del tratto, del segno. Ecco, abbiamo visto quindi una serie di artisti, ma ne potremmo citare altri, che ognuno a modo suo contribuiscono alla crescita in qualche modo delle arti, del progresso artistico e del rinascimento e tutti questi elementi di innovazione faranno parte poi appunto del rinascimento maturo. Chi ci rimane da vedere? Per esempio ci rimane da vedere un artista molto interessante che si chiama Domenico Veneziano, Domenico Veneziano perché appunto veniva proprio da Venezia, viene da Venezia a Firenze, si pensa al seguito di Gentile da Fabriano, però a Firenze incontra, vede Masaccio, è un incontro per lui strabiliante perché comincerà a ragionare su Masaccio e non tarderà a mettere in pratica quello che impara. Purtroppo noi lo conosciamo solo da pochissime opere, non abbiamo più le storie della Vergine in Sant'Egidio, un ciclo di affreschi assolutamente celebrato dai contemporanei, però per esempio se proviamo a guardare questa Adorazione dei Magi dello Statlic Museum di Berlino, già qui vediamo questa, diciamo, tendenza a unire aspetti tardogotici e aspetti rinascimentali. Vi faccio vedere cosa intendo. Abbiamo sopra la solita Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano del 1423, sotto la versione, diciamo, dell'Adorazione dei Magi di Masaccio, molto più semplice, più sintetica, lineare, con una composizione di tipo paratattico, in qualche modo, diciamo, molto più equilibrata, che appunto Masaccio realizza forse anche proprio come risposta diretta all'opera di Gentile da Fabriano, invece più caotica, più ricca di dettagli, in cui lo sguardo si perde in qualche modo tra questi barbagli d'oro, tra tutti questi ghirigori, tra tutte queste decorazioni, stoffe, sete, broccati. Sotto abbiamo appunto la interpretazione invece masacesca che viene realizzata nella predella del politico di Pisa. Vedete appunto, tornando indietro, che Domenico Veneziano riesce a mettere insieme due aspetti, nel senso che abbiamo un fondale, una scenografia, un paesaggistico assolutamente rinascimentale, abbiamo una costruzione prospettica molto chiara ed evidente, abbiamo una strutturazione dei personaggi che hanno un senso molto chiaro ed evidente anch'esso, però poi abbiamo una serie di elementi decorativi dagli animali, il pavone, i cani, i gatti, fino a vedere il dettaglio, per esempio, di queste vesti eccezionalmente ricche, di questi grandi, diciamo come se fosse una grande sfilata di moda del Quattrocento, sembrano dettagli da modista, oggetti ricamati, appunto grandi broccati, sete operate, tessuti di ogni genere. E poi il dettaglio delle erbe, dei fiori, dei ciottoli, dei frutti, cioè tutti elementi tipici tratti dal gotico internazionale che saranno tipici nella loro minuzia anche dell'arte fiamminga, che vedremo di qui a poco. Quindi vedete, in questo caso Domenico Veneziano sembra mettere insieme appunto questi due estremi, come prima di lui hanno già fatto, abbiamo visto molti artisti. Dov'è la cosa eccezionale in Domenico Veneziano? È l'uso della luce. Domenico Veneziano sarà fondamentale per quella che verrà definita appunto pittura di luce, bagnerà le sue opere, le sue composizioni di una luce sempre serotina o di prima mattina, cioè la luce che c'è subito dopo il tramonto o subito prima dell'alba, cioè questa luce molto molto dedicata, molto chiara, che riesce a tornire le figure costruendo in qualche modo lo spazio, alleggerendo le ombre, alleggerendo quindi anche il chiaroscuro, ma riuscendo a tornire queste figure senza l'uso della linea di contorno. Guardiamo quello che è l'esempio forse più noto, che è la pala di Santa Lucia de Magnodi, oggi conservata alla Galleria degli Uffizi, dove si vede appunto questa ambientazione assolutamente moderna, un'idea abbastanza incredibile, questa sorta di loggiato aperto, quindi dal tetto che manca piove questa luce dorata di mattiniera, vedete che l'azzurro dietro è ancora un azzurro scuro, come se ancora stesse alveggiando, una luce che unifica lo spazio, in qualche modo tornisce i corpi, che hanno dei volti molto realistici tra l'altro, una prospettiva complicatissima a tre punti di fuga, ve la faccio vedere, per cui per esempio il pavimento è un brano squisito, di grande capacità prospettica, quindi vedete che in questo caso Veneziano riesce a costruire il suo spazio attraverso non solo la prospettiva, quindi rigida il disegno, rigida la linea di contorno, ma bagnando tutti questi elementi prospettici, ben studiati, ben realizzati, ben messi in pratica, con una luce più realistica, più morbida, che rende tutto più credibile. Se passiamo per esempio a un altro artista interessante, che è Filippo Lippi, a cui vi faccio vedere in questo caso un soggetto iconografico che era tipico, diciamo, della fantasia tardogotica, la Madonna dell'umiltà, perché la Madonna dell'umiltà si siede a terra e nel mondo tardogotico questo siederso a terra voleva dire avere la possibilità di creare dei giardini eccezionali, con fiori, frutti, oppure, come vedete nella versione di Gentile del Fabriano e di Beato Angelico, riimmaginare questi fiori e questi frutti come tappeti, come grandi drappi di stoffa ricamata. Ecco, Filippo Lippi, che purtroppo noi conosciamo quasi più per le sue bravate, per la sua vita spericolata, Filippo Lippi era un monaco carmelitano che poi fuggì e rapì una suora, fece un figlio con questa suora, Lucrezia Buti, da qui appunto nacque un figlio che poi sarà Filippino Lippi, altro artista di grandissima qualità. però diciamo, a parte questi sceni biografici di colore, saporiti, interessanti, era un artista di grandissima qualità, di grandissimo livello e la cosa interessante è che essendo monaco da giovane al Carmine, lui ebbe l'opportunità di vedere sui punti della Cappella Brancacci Brancacci Masaccio. Ecco, se noi guardiamo questa iconografia e la depuriamo completamente diciamo in senso masaccesco, viene fuori appunto la Madonna dell'umiltà con Angeli e Santi di Filippo Lippi dove vedete che la Madonna è una Madonna vera e il bambino che insomma ci fa anche sorridere perché sembra abbia appena mangiato un po' pienotto ma ha un peso, un corpo, non ci sono più questi fiori, questi frutti, questi tessuti, non c'è niente di tutto ciò. Nonostante questo resta una profonda delicatezza del tratto che sarà quella per esempio che caratterizzerà l'opera forse più famosa di Filippo Lippi questa Madonna col bambino che si caratterizza intanto il taglio di questa Madonna sarà diciamo così il marchio di fabbrica di tutto il Rinascimento. Pensate a tutte le Madonne di Botticelli per esempio che riparte da qui tanto che questo taglio diciamo di Madonna verranno proprio dette Lippine per cui diventa proprio qualcosa di tipico del Rinascimento. Questa donna che ha nonostante abbia questo incarnato di Porcellana è una donna vera è una donna vera perché appunto è Lucrezia Buti quindi si vede proprio la bellezza la delicatezza e questa luce limpida che bagna e tornisce le figure e che sarà tipica di questo rinascimento maturo che sarà fatto di chiaroscuri molto più leggeri di un disegno meno rigido meno bloccato rispetto al primo Rinascimento. Chiudiamo visto che abbiamo un solo minuto con un episodio abbastanza curioso che è quello di Benozzo Gozzo li vedete bene che qui abbiamo un rinascimento che in qualche modo è tornato al gotico internazionale c'è una fortissima volontà ritrattistica dei personaggi perché questa cavalcata dei magi adombra diciamo una processione con personaggi effettivamente vissuti tutti i personaggi della corte medicia durante il Gran Concilio del quale abbiamo già parlato ma poi c'è un'esplosione di fantasia che non tiene più conto in nessun modo dei rapporti proporzionali e dimensionali tra lo sfondo e il primo piano uno sfondo fatto di questi alberini sottili con queste chiome squadrate e questi castellucci elementi che sono stati ripresi ve lo faccio vedere per una nota di colore evidentemente ripresi come punto di ispirazione per la realizzazione della bella addormentata nel bosco della Disney nel 1959 dove vediamo delle scenografie del genere ecco la prossima volta parleremo dell'altro mostro sacro Piero del Franchino Piero del Franchino